Il PD esce più forte dalle elezioni, dice il segretario Epifani e per il Premier Letta i risultati delle urne rafforzano il governo. Il governo che annuncia il vario di un decreto del fare prima del vertice europeo, nel provvedimento misure per il lavoro e la crescita ma anche i temi caldi di IVA e IMU. Entro luglio l'avvio dell'iter del DDL costituzionale sulle riforme. Sconfitta coccente per il PDL che perde su tutta la linea, da Palazzo Graziole arriva la smentita di commenti attribuiti a Berlusconi che resta in silenzio. Nel PDL ora è caccia i responsabili e i falchi attaccano il Vice Premier Alfano. Il segretario della Lega Maroni parla di una batosta innegabile da attribuire allo scontro interno al Carroccio. I grillini bocciati dalle urne crollano in Sicilia, considerata la loro roccaforte, conquistano solo due comuni, Pomezia nel Lazio Semini in Sardegna, ma non ammettono il flop. Il cammino del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni è lento ma inesorabile, commenta Grillo. Torna altissima la tensione in Turchia questa mattina. Piazza Taksim è stata sgomberata dalla polizia, dispersi con lacrimogeni e idranti manifestanti. Il Premier turco Erdogan conferma la linea dura, tolleranza zero. In Siria sono almeno 14 le vittime e una trentina i feriti del duplice attentato che ha insanguinato Damasco. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Sono numeri per una volta inequivocabili quelli che arrivano dalle urne dal due giorni di voto per le amministrative, ancora più inequivocabili visto che oggi si sono aggiunti quelli che mancavano relativi al primo turno della Sicilia. Quella Sicilia che solo nel 2001 era terra senza rivali per il PDL, il famoso Unplaine, quel 61-0 che invece si è trasformato oggi in una debacle senza attenuanti. Non ci sono più sindaci del PDL, c'è un cappotto da parte del PD, ma c'è un altro dato che non ammette letture diverse, è quello della stensione spalmata su tutto il territorio nazionale. Non 16, ma 17, molto probabilmente 18-0 è il bilancio questa mattina del voto amministrativo. Ai successi sonori di Roma, Brescia, Treviso, Ancona, Barletta, Avellino e via discorrendo, bisogna infatti aggiungere anche Catania, passata al primo turno in Sicilia al centro-sinistra, vicinissimo al successo anche a Messina. Ce la fa sul filo di lana l'ex ministro Enzo Bianco, già sindaco nel 1993, in quella lontana stagione che venne definita la primavera di Catania. Bianco è stato eletto con il 56%, si ferma al 36-5 il suo rivale, il PDL Raffaele Stancanelli, sindaco uscente. A Messina manca ancora la certezza sull'esito del voto. Felice Calabrò del centro-sinistra, poche sezioni dalla fine dello spoglio, viene dato al 49-9, appena sotto il 50% utile. Si ferma al 23 il suo rivale Renato Accorinti, appoggiato dalla lista civica Nopponte. Il centro-sinistra va sicuramente al ballottaggio a Siracusa e anche a Ragusa, dove la partita si gioca tra Giovanni Cosentini e il candidato 5 Stelle Federico Piccitto. Un buon risultato per il partito di Grillo, caso isolato però nel resto dell'isola. I 5 Stelle sono crollati rispetto al voto politico di tre mesi fa ed anche a quello regionale dello scorso ottobre. A Catania la lista di Grillo non supera la soglia di sbarramento del 5% e rimane fuori dal Consiglio Comunale. Nella città etnea i grillini l'anno scorso alle regionali avevano preso il 16,7%, il 32% alle politiche di febbraio. Molto male i 5 Stelle a Siracusa ed anche a Messina, dove la candidata di Grillo si ferma sotto il 3%. Un tracollo, forse anche più doloroso, quello del PDL male in Sicilia, come nel resto d'Italia. Il centrodestra era alla guida delle quattro grandi città siciliane chiamate al voto ed ora rimane fuori, addirittura da tutti i ballottaggi. E allora andiamo a un risultato che secondo il Presidente del Consiglio Enrico Letta rafforzerà in ogni modo il governo di larghe intese che Conti alla mano lavora da 40 giorni, ma adesso arriva anche dal vertice di maggioranza che era in programma questa mattina l'esigenza, anche perché il pressing arriva da più parti, di cominciare a fare, di accelerare, non solo su quel percorso delle riforme costituzionali che tante difficoltà ha avuto, ma poi anche su quel decreto del fare. È un termine che gira da questa mattina, annunciato dallo stesso Letta, si parla di temi già trattati a lungo in campagna elettorale, le semplificazioni in termini di lavoro, ma anche in termini di fisco, che vadano ad aiutare tutto quel capitolo delicato legato alla disoccupazione, in particolare giovanile, quel tema che, Ricoletta, è stato molto chiaro in questo senso anche nei giorni scorsi, il governo italiano vuole portare sul tavolo europeo nel Consiglio di fine mese. Ricominciamo da qui. Da un lato c'è l'impegno a correre sull'approvazione del disegno di legge costituzionale sul percorso delle riforme per rispettare la tabella di marcia che il Parlamento si è dato e contemporaneamente abbiamo fatto un ragionamento su delle misure che dovranno essere oggetti di provvedimenti del governo, in parte disegni di legge, in parte un decreto fare che consenta al governo italiano di presentarsi al Consiglio europeo del 27-28 con una serie di misure, soprattutto in materia di semplificazione, di lavoro, in materia fiscale, di piccole e medie imprese. Il vertice di maggioranza su economie e riforme arriva il giorno dopo il voto amministrativo. Nessuna ripercussione sul governo è la parola d'ordine, tanto del PD vincitore quanto del PDL sconfitto. A tenersi all'ordine del giorno è la calda raccomandazione del Premier Letta, deciso a evitare nuove tensioni e ad accelerare sull'agenda dell'esecutivo che punta a ottenere entro luglio la prima approvazione del Senato del disegno di legge costituzionale che vara la procedura straordinaria per le riforme con la cosiddetta bicameralina e i tempi abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ma il governo si impegna soprattutto a varare prima del vertice europeo del 27 giugno quello che ha già battezzato come decreto fare, con misure per l'occupazione, in particolare giovanile, semplificazioni e interventi fiscali. Sarà il decreto a dover sciogliere il nodo più difficile, scongiurare l'aumento dell'IVA, di cui nel vertice non si è parlato. E presto servono risorse e non parole, avverte il ministro per i rapporti con il Parlamento Franceschini. Ma il capogruppo del PDL e la Camera, Brunetta, conferma la priorità. L'orientamento della maggioranza è di non fare aumentare l'IVA a luglio e di cancellare l'IMU sulla prima casa. Ma la coperta delle risorse è corta e sulla questione fiscale il rischio di nuove tensioni nella maggioranza è concreto. Per questo Letta è soddisfatto, sì, per il successo dei candidati del PD alle amministrative, che toglie argomenti agli oppositori interni del Partito Democratico, ma è attento a non esaltare la vittoria del centro-sinistra e a sottolineare il valore delle larghe intese. Anche perché il risultato negativo del PDL è stata una doccia fredda per chi, in quel partito, voleva spingere Berlusconi allo strappo per tornare alle urne sull'onda dei sondaggi. È un tema che già... Berlusconi che resta ancora in silenzio anche in questo lunedì di analisi e forse proprio un partito che a questo punto troppe volte si è nascosto dietro il carisma del suo leader. Sindaco PDL, specie in via di estinzione, azzarda qualcuno. Di certo il risultato netto, schiacciante, pesa. Nessuna delle grandi città è più governata dal centro-destra, a partire da Roma che si aggiunge ora Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze e Napoli. No Silvio, no Parti, della serie senza Berlusconi in campo non si vince. Nella sintesi del titolo del giornale c'è il pensiero che ieri aveva avanzato qualche fedelissimo del Cavaliere, spiegando che il problema del PDL è a livello locale. A Rottamare Silvio dunque neanche a pensarci. Casomai la gente è delusa dal partito, sentenzia Michela Biancofiore, che evoca il ritorno a Forza Italia. Ma è da Palazzo Grazioli che traspare un evidente nervosismo. Già di prima mattina viene infatti diramato un comunicato per smentire frasi fantasiose che sarebbero state attribuite a Berlusconi dalla Repubblica di oggi. Berlusconi intanto è rimasto rintanato ad Arcore. I primi commenti arrivano dal suo entourage. Galan parla di debacle, Scaiola ammette la sconfitta d'Imperia. È andata malissimo, mi fermo qui. Una sconfitta annunciata, più pesante delle previsioni, aggiunge Matteoli. Bisogna costruire ora il partito sul territorio. Maria Stella Gelmini argomenta senza Berlusconi siamo più deboli e non si vince. Certamente ci ha penalizzato l'astensionismo. Ed è dunque a Berlusconi che tutti nel partito tornano a guardare con i falchi del PDL che vanno all'attacco di Alfano, considerato il colpevole numero uno. Il vice premier cerca di smarcarsi da Enrico Letta, dalle colonne del foglio. Non stiamo insieme perché lo abbiamo cercato, ma a causa del risponso delle urne. E ancora va bene il carattere di necessità, ma il governo deve avere una missione autonoma. Di certo comunque né Alfano né Berlusconi pensano a falli di reazione che mettano a rischio la vita del governo Letta. Il giorno dopo la batosta delle amministrative, comunque l'aria è cupa. Dobbiamo costruire un partito presente nel territorio che si affianchi alla leadership di Berlusconi, ripete ancora Cicchitto, mentre il coordinatore Bondi avverte il problema non è la dirigenza, non mettiamoci a parlare di congressi e di tesseramenti, sarebbe un ulteriore imperdonabile errore. La nostra forza resta a Berlusconi e la nostra debolezza deriva dalla difficoltà di far emergere personalità autonome con il coraggio delle proprie idee. E sempre Berlusconi, almeno fino a ora, ha scelto la via del silenzio, altra scelta quella di Maroni che non ha usato mezzi termini nel definire la debacle della Lega Nord, travolta prima dagli scandali ma anche da quella incapacità di rendere trainante come era stato negli anni precedenti il tema del Nord. Quello della Lega è un partito che è percepito diviso e litigioso e come tale gli elettori lo puniscono. Un Nord Italia deleghizzato risveglio amaro per il carroccio. Il giorno dopo la batosta elettorale del centrodestra che non porta a casa neanche uno dei sedici comuni al voto, la Lega Nord fa i conti con i suoi numeri e le sue ex roccaforti diventate rosse. Prima fra tutte Treviso, 19 anni di Giancarlo Gentilini spazzati via con dieci punti di scarto. Il semi sconosciuto Giuseppe Manildo del PD, avvocato di 44 anni, vince sullo sceriffo 84enne. Finisce un'epoca, quella della tolleranza zero e della schedatura degli immigrati. È finita la mia era ma è finita anche la loro. Ci va giù duro lo sconfitto che ieri ha parlato solo tramite comunicato e oggi continua il suo silenzio. Una stoccata al suo partito e alle divisioni che sono in corso da tempo nella Liga Veneta con Tosi, sindaco di Verona e Maroniano, considerato colpevole delle epurazioni dentro il carroccio a cui si contrappone il fronte del governatore della regione, Luca Zaia. Lontano lo spirito con cui il partito all'inizio degli anni 90 conquista il nord Italia, la Lega del territorio capace di parlare alla pancia della gente ha perso la sua forza. In Veneto, in Lombardia, in Piemonte, regioni ancora con governatori verdi, i sindaci delle grandi città ormai hanno altri colori. Una batosta innegabile l'ha definita il segretario governatore Roberto Maroni che attribuisce allo scontro interno alla Lega parte delle colpe di questa sconfitta. Per Maroni la Lega paga ancora le vicende dei rimborsi elettorali, poi l'accusa al fondatore Umberto Bossi di aver alimentato le divisioni. Il riferimento è all'intervista in cui Bossi dà del traditore a Maroni e fa sapere di voler correre di nuovo da segretario. Sarà un giovane, ribadisce il governatore della Lombardia. Ora gli avvoltoi fuori dalle scatole, conclude Maroni. Anche Matteo Salvini, segretario della Lega in Lombardia, ammette a Treviso e a Brescia abbiamo sbattuto la faccia contro il muro. Chi litiga allontana la gente e poi l'invito a guardare avanti bisogna ripartire. Lega non riparta proprio da un confronto schietto e franco tra il vecchio leader Bossi e Maroni perché proprio di pochi istanti fa la stessa ammissione di Maroni che ha visto proprio ieri con evidentemente risultati e numeri già a disposizione Umberto Bossi si sono parlati, ha detto ci siamo detti tutto in faccia, ci siamo parlati finalmente e chiaramente chissà che da sciogliere questi nodi non si riparta in casa Lega. In qualche modo bisogna disegnare una ripartenza anche per il Movimento 5 Stelle che di fatto in quasi tutti i ballottaggi che contavano era fuori dai giochi in questa due giorni elettorale. Pesava qualcosa in Sicilia, abbiamo visto come è andata, anche se Grillo non ammette il risultato negativo. Di fatto c'è una dispersione di voti, anche una certa fatica in questa fase a controllare i comportamenti del partito, di chi è fuoriuscito ma anche di chi ancora resta. Solo due comuni, quello romano di Pomezzo e quello sardo di Assemini. A tanto si è limitata la conquista dei grillini che hanno subito commentato sul sito di Beppe Grillo il cammino del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni è lento ma inesorabile. Lento e inesorabile però sembra essere il crollo dei consensi in caduta libera dopo il flop di due settimane fa, quando i grillini sono stati tagliati fuori da tutte le sfide nei comuni più importanti. Neppure nella loro roccaforte, la Sicilia, dove nel weekend si è votato per il primo turno, è andata meglio. Anzi, dal voto siciliano è arrivata la vera sconfitta per il Movimento 5 Stelle che proprio sull'isola era stato il partito più votato nelle elezioni regionali a febbraio. Nei quattro capoluoghi di provincia, Ragusa, Siracusa, Messina e Catania, i candidati del centro-sinistra hanno avuto la meglio su quelli del Movimento che hanno raggiunto percentuali minime di gradimento. Una piccola soddisfazione arriva solo da Ragusa. Il candidato grillino andrà al ballottaggio con il rivale del centro-sinistra anche se con il 15,64% delle preferenze contro il 29,34%. È la dimostrazione che le elezioni amministrative sono diverse dalle politiche, spiega oggi sul Corriere della Sera Vincenzo Crimi, che ci tiene a ridimensionare la disfatta. Siamo passati da zero a due comuni, va benissimo così, sottolinea il capogruppo uscente al Senato. Non tutti però all'interno del Movimento riescono a vedere il lato positivo. Ieri in un'assemblea a fiume si è discusso a lungo del risultato poco confortante e dell'allarme a stensione che ha raggiunto i livelli record. Alcuni parlamentari danno la colpa alle divisioni interne che avrebbero indebolito agli occhi dell'opinione pubblica le proposte del Movimento. Ma a surriscaldare il clima c'è anche il caso dei dissidenti e dei fuoriusciti che alimentano voci di nuovi abbandoni e possibili espulsioni. Con Beppe Grillo che continua a tuonare contro i partiti, la stampa e le istituzioni, l'ultimo attacco contro il presidente della Camera Laura Boldrini. Insomma, in casa 5 Stelle le acque sono agitate. Oggi intanto si sceglierà il nuovo capogruppo al Senato. I candidati sono Nicola Morra e Luisa Alberto Rellana. E vi aggiorno anche questo caso pochi istanti fa è Nicola Morra, il nuovo capogruppo 5 Stelle al Senato con 24 voti rispetto al suo sfidante. Dicevamo del pressing costante che arriva sull'esecutivo dalla vertice di maggioranza di questa mattina è emersa l'esigenza di fare e di fare presto. Quel decreto del fare in qualche modo interesserà anche il mondo dell'industria. Ieri la Confindustria aveva parlato dell'esigenza di un cambiamento profondo. Oggi l'ennesimo allarme è arrivato dalla Confartigianato. Basta guardare i numeri. In Italia la tassa sugli utili lordi di impresa è del 68,3%. In Svizzera è poco più del 30%. Parte da questo confronto il bilancio della crisi fatto da Confartigianato, un bilancio per niente positivo e che mostra come imprese artigiane e famiglie siano ormai allo stremo. Numeri che pesano come un macigno sulle piccole imprese artigiane che sono, ha detto il numero uno degli artigiani Giorgio Merletti, il cuore, le mani e l'intelligenza del Made in Italy e che, come ha riconosciuto oggi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, possono fornire un essenziale contributo alla progettazione di politiche che favoriscano la ripresa e la crescita dell'economia e dell'occupazione. Da novembre 2011 ad oggi 60.000 imprese si sono volatilizzate. La disoccupazione dei giovani è cresciuta di 8 punti percentuali e la ricchezza del Paese è scesa di quasi 3 punti e mezzo. Gli artigiani devono fare i conti con le banche che hanno chiuso i rubinetti del credito e con un fisco che tartassa sempre di più, 65 miliardi di euro in meno di credito e più 2 punti percentuali di pressione fiscale. Insomma, si deve cambiare rotta e mettere mano alla riforma sul lavoro e alle tasse per cambiare il sistema che, per gli artigiani, sembra invitare le piccole imprese ad andare fuori dai confini nazionali per fare il proprio lavoro. Le imprese artigiane corrono contro mano e con gli occhi bendati. Non è solo il grido d'allarme, quello lanciato oggi dal Presidente di Confartigianato, Berletti, nell'Assemblea annuale degli artigiani. E soprattutto una richiesta di assunzione di responsabilità indirizzata a politici e al governo. Ora tocca a voi, fate il vostro dovere e governate, ha detto il Capo degli artigiani che ha sottolineato come le imprese siano stanche di promesse non mantenute, impegni non rispettati e leggi che danno risultati opposti a quelli auspicati, a partire da quella talgata fornero. Allora, di là delle politiche, in questo caso economiche, dei singoli stati, un po' tutta l'Unione Europea è unita in una preoccupazione che ci porterà fino a settembre, mese in cui arriverà, a fine settembre, il verdetto della Corte Costituzionale tedesca. Si discute dalla giornata di oggi del programma di acquisto illimitato di titoli sovrani da parte della BCE e in questo senso Mario Draghi ha provato a giocare d'anticipo proprio con i tedeschi. Difficile non parlare di uno scontro tra titani economici, la Banca Centrale Europea e la Bundesbank. Cominciamo dal luogo del duello, la Corte Costituzionale tedesca, riunita dalle 10 di stamattina nella sua sede di Karlsruhe. I giudici in toga scarlata dovranno decidere se l'OMT, lo scudo antispread lanciato da Mario Draghi l'estate scorsa, sia compatibile con la Costituzione. Per capire la posta in gioco bisogna ritornare con la memoria ad un anno fa, con Spagna e Italia sotto l'attacco degli speculatori internazionali. La BCE di Draghi decise di intervenire. Il 6 settembre Francoforte annunciava appunto l'OMT, un programma per acquistare sul mercato secondario, i titoli di Stato di paesi in difficoltà che facessero esplicita richiesta di aiuto, pronti a sottostare a rigide condizioni. Bastò la volontà, una volta tanto chiarissima, di schierare la BCE e i mercati si calmarono. L'OMT finora non è stato richiesto da nessuno, non ce n'è stato bisogno. E così le casse europee e i contribuenti tedeschi non hanno dovuto spendere finora un solo euro. Lo ha ricordato a scanso di equivoci lo stesso Draghi che si è fatto intervistare ieri sera dalla TV tedesca. Siamo intervenuti per difendere l'euro, non i paesi in crisi di solvibilità, ha detto il capo dell'Eurotower. In aula oggi ci sono due rappresentanti del board della BCE, due tedeschi che la pensano in modo diametralmente opposto. Uno, Jörg Asmussen, è sempre stato favorevole al programma e ha detto di essere molto preoccupato per un'eventuale decisione negativa della Corte. L'altro è Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, il critico più feroce dell'OMT. Fuori dall'aula si è fatta sentire la cancelliera. Gli altri programmi di solidarietà europea, ha detto Angela Merkel, sono stati approvati dalla Corte. La Germania va bene solo se l'Unione Europea funziona e il governo difenderà l'operato della BCE, che è corretto. Non ne sono così sicuri gli euroscettici tedeschi che con i loro ricorsi hanno sollevato la questione. La decisione arriverà in autunno, forse dopo le elezioni. Ma il presidente della Corte oggi ha detto che i giudici non terranno conto dell'eventuale effetto politico del verdetto, ma solo della questione tecnica di costituzionalità. Insomma, che l'eurocrolli o vada a gonfie vele non dovrà fare differenza. Le borse europee intanto oggi sono già nervose. Per le cattive notizie da Orienter, lenta la Cina, il Giappone non conferma le misure di stimolo all'economia, ma anche per quel brivido sottile che arriva appunto da Karlsruhe. Andiamo in Turchia a conti alla mano. Siamo al dodicesimo giorno di protesta. Un braccio di ferro costante tra i manifestanti e il leader Erdogan, che non molla la presa a dimostrarle quel che sta succedendo nella piazza simbola della protesta a Istanbul, dove la polizia è entrata in tenuta antisommossa per assumere il controllo. Se gli alberi di Gezi Park sono il simbolo della rabbia dei giovani turchi, il discorso pronunciato questa mattina in Parlamento da Erdogan non getta certo acqua sul fuoco. Il premier infatti ha annunciato tolleranza a zero e detto che la cementificazione del parco per far posto ad un supermercato sarà portata avanti e che gli alberi verranno sradicati per essere ripiantati da qualche altra parte. Una pessima notizia per un movimento che ha dato il via ad una protesta che si è ben presto trasformata in una battaglia contro l'esecutivo filo-eslamico di Erdogan. Parole pronunciate a poche ore dallo sgombero di piazza Taksim da parte di una impressionante quantità di poliziotti. Erano le prime ore dell'alba quando centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno cominciato a dirigersi verso la piazza dove da giorni sono accampati gli attivisti. Inevitabili gli scontri con un gruppo di ragazzi che hanno cercato di resistere lanciando pietre e qualche bottiglia incendiaria mentre la maggior parte si è riversata spontaneamente verso Gezi Park, un luogo che adesso il prefetto di Istanbul dice di volere proteggere da ogni intervento armato. I ragazzi, ha detto, non verranno toccati in alcun modo. Lo garantisco personalmente anche perché a causa di alcune frange di violenti è stato necessario intervenire con uno spettacolo che ha sconvolto la popolazione e messo la Turchia in cattiva luce davanti al mondo. Ma smentirlo è stato poco fa lo stesso Premier annunciando anche qui imminenti sgomberi che in parte sono già iniziati. Le immagini di questa mattina del resto mostrano in modo eloquente l'intervento muscolare degli agenti che hanno fatto nuovamente largo uso degli idranti e dei lacrimogeni mentre su Twitter diversi manifestanti hanno denunciato la presenza di provocatori della polizia affermando tra l'altro che una bottiglia incendiaria è stata lanciata verso i giovani che si ritiravano verso Gezi Park. Nella notte le forze antisommossa sono intervenute duramente anche ad Ankara nel quartiere di Tunali dove si erano riuniti alcune migliaia di manifestanti pacifici diversi di arresti e feriti. Altissima la tensione anche in Siria con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che continua a chiedere al regime di Assad la possibilità di far entrare gli investigatori nel paese poi la preoccupazione degli Stati Uniti che valuta ogni opzione anche la possibilità di fornire delle armi agli insorti e poi le ultime notizie, quelle come sempre frammentarie che arrivano da Damasco dove ci sono state due esplosioni. Due kamikaze nel centro di Damasco o forse due esplosioni di lieve entità causate da due ordigni piazzati in altrettanti sacchetti di plastica. Non ci sono fonti indipendenti e dunque neppure a Damasco è possibile ricostruire quello che è accaduto stamattina in una piazza affollata nel cuore della capitale siriana. Anche il numero delle vittime di un attentato che sembra essere una risposta dei ribelli all'ultima offensiva dell'esercito fedele ad Assad è ancora incerto. L'agenzia ufficiale Sanaa parla di 14 morti e 31 feriti ma in precedenza aveva ridimensionato l'entità dell'azione terroristica e fissato a due il numero delle vittime. Fatto sta che nella crisi siriana gli unici che sembrano avere certezze sono i servizi israeliani che parlano di una guerra civile potenzialmente lunghissima dove la strategia di logoramento da parte delle forze fedeli al regime è appena all'inizio. Dopo aver ripreso Kusair al termine di una durissima battaglia le milizie di Assad hanno adesso nel mirino l'area di Aleppo al confine con la Turchia fino ad oggi saldamente in mano all'opposizione. L'operazione denominata Tempeste del Nord punta anche a riprendere possesso della base aerea di Minink dove i ribelli hanno ancora il controllo della torre radar. Bashar al-Assad vuole sfruttare la situazione di stallo diplomatico che però potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il segretario di Stato americano John Kerry ha rinviato infatti la sua missione in Medio Oriente per fare il punto della situazione siriana alla Casa Bianca con il presidente Obama che ha chiesto di esaminare tutte le opzioni possibili per aiutare l'opposizione siriana. Tra una settimana poi a margine del G8 in programma nell'Irlanda del Nord Obama e Putin si confronteranno faccia a faccia sul dossier siriano forse soltanto dopo quell'incontro potremo capire se la Siria davanti a sé ha ancora una lunghissima notte di guerra. Noi chiediamo con il calcio occhi puntati sulla nazionale che prepara il suo esordio alla Confederation Cup la seconda partecipazione nella storia del calcio azzurro stasera con traiti che prove generali l'esordio contro il Messico il tutto in una cornice davvero ideale fantastica capace di dare serenità proprio a tutti. Ascoltate. In Brasile è sbarcato un Balotelli nuovo sorridente e disponibile la passeggiata con il Sharawi sul lungomare di Rio gli ha fatto dimenticare di colpo l'espulsione di Praga le polemiche via Twitter e i duri rimbrotti di Prandelli stavolta l'unico cinguettio di Super Mario è per la patria dove il calcio rappresenta gioia e divertimento. Io amo il Brasile ha confessato l'attaccante della nazionale. Quello che abbiamo detto dopo la partita possiamo ripeterlo non ci sono scusanti anche se i giocatori vengono provocati ma la forza di un giocatore è dentro se stesso quindi devi avere un grado di sopportazione grande e nessuno deve pensare mai di essere solo a risolvere un problema. Il campo ci dirà se Balotelli è davvero maturato intanto stasera salterà l'amichevole e benefica contro Haiti ma non per motivi disciplinari. Il CT vuole provare soluzioni diverse rivoluzionando la squadra negli uomini e nell'assetto tattico dopo il brutto 0-0 di venerdì con la Repubblica Ceca. Scocca l'ora del 4-3-3 un modulo da testare nella Confederations Cup il torneo che anticipa di un anno i mondiali brasiliani. Il mercato rischia però di distrarre l'Italia. Nel gruppo azzurro è forte la rappresentanza di Juventus e Milan due società con obiettivi comuni nella campagna acquisti. Marotta e Galliani si stanno pestando i piedi su Diamanti e soprattutto su Tevez. L'amministratore delegato rossonero non ha nascosto il fastidio per la trattativa avviata dai bianconeri per l'attaccante argentino del Manchester City accostato al diavolo già nel gennaio del 2012. Carlitos non mi tradirà, giura Galliani che nel frattempo pensa a pastore del Paris Saint-Germain come trequartista ideale per il confermato Allegri. Conferme anche sul nuovo tecnico della Roma. Rudy Garcia è volato a New York con lo Stato Maggiore giallorosso per firmare sotto gli occhi del Presidente Pallotta il biennale da un milione e mezzo a stagione. Bene, attesa ci fermiamo. Pubblicità, torniamo subito dopo con i nostri aggiornamenti. Tra poco. Dunque un minuto e mezzo dopo le 14 vi ricordo come sempre per continuare a essere informati tutti gli aggiornamenti disponibili sul nostro sito internet adesso vi lascio al nostro TG Crona che vi ricordo informazione che torna nel telegiornale delle eventi noi invece ci rivediamo domani. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.